Ciao bella gente! Concheremo proprio il virus. Il tasso di mortalità è schizzato al 56%. Sono le persone iniziali. Sono le persone iniziali. Oggi il centro per il controllo delle malattie ha presentato i nuovi lasciabassare per gli immuni che saranno di colore giallo canarino. Iniziamo subito. Organizzazione mondiale della sanità! Oi, bea gente! Grazie a tutti!